buongiorno il brano del vangelo di oggi è preso dal capitolo 3 di marco i versetti dal 1 al 6 e racconta la guarigione compiuta da gesù nella sinagoga di un uomo dalla mano paralizzata in realtà questa guarigione diventa motivo di un ulteriore scontro tra gesù e i farisei perché è una guarigione compiuta in giorno di sabato ed essi allora ne approfittano per accusare gesù di non rispettare la legge di israele che proibisce di compiere queste guarigioni in giorno di sabato il conflitto è duro gesù stesso però ci aiuta a porlo nella dimensione corretta non si tratta solo di una legge non rispettata o chissà di una certa invidia e competizione fra un rabbì migliore degli altri è in gioco il bene e il male in gioco la vita e la morte salvare la vita oppure ucciderla non a caso alla fine di questo evento i farisei con gli erudiani decidono di uccidere gesù proprio colui che è la fonte della vita e dunque la cosa è molto seria l'uomo con la mano paralizzata e simbolo di tutti noi di ciascun uomo e ciascuna donna che vengono al mondo e dell'umanità intera quando rimane bloccata paralizzata dalle paure dai dubbi dalle vergogne che fanno capolino chissà ogni giorno nelle nostre relazioni e nelle nostre occupazioni gesù libera l'uomo dal legaccio che blocca la mano la mano che serve per lavorare per creare per operare la mano che rende l'uomo abile a collaborare con il dio creatore agricoltore il costruttore descritto dalla genesi che in ogni uomo e ogni donna desidera trovare un concreatore nell'intraprendenza quotidiana tante volte siamo bloccati in questa nostra estrema dignità con la paura di non essere all'altezza o con l'idea di non essere chiamati a una vita così bella di collaboratori di dio gesù mette tutto il suo impegno perché questa dignità venga restituita e lo fa con tutta l'emotività l'affettività propria di una vita umana vissuta in pienezza prova indignazione tristezza per la durezza dei cuori di chi ostacola la vita e desidera davvero diventare protagonista di una restituzione di dignità anche noi allora dobbiamo scegliere da che parte stare per la vita o per la morte per il bene o per il male in tutte le cose di ogni giorno perché i legacci più pesanti si costruiscono piano piano con piccoli fili che si avvinghiano attorno alla persona giorno dopo giorno possiamo allora decidere fin dai piccoli gesti di essere costruttori di vita costruttori di bene e di cacciare lontano ciò che uccide e fa del male perché i piccoli gesti sono la possibilità di costruire una esperienza autentica di dignità per chiunque incontriamo nella nostra esistenza buona giornata scegliendo la vita